Un comparto di eccellenza del nostro Paese, ormai strutturato a livello di regolazione e normativa tecnica, è in grado di costituirsi come un'opportunità sia in ambito economico sia in termini di sostenibilità ambientale. E' il quadro relativo al settore del biometano, emerso dall'incontro Biometano ed Intorni, che si è tenuto martedì 15 settembre nella sede della Camera di Commercio di Milano. L'iniziativa, organizzata da Innovab e dall'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, è stata l'occasione per discutere delle potenzialità del biometano, in un contesto multidisciplinare che non ha tralasciato aspetti economici e legati all'innovazione tecnologica, che come ha sottolineato Alberto Pinkerle, presidente della sezione Giovani dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, vede il nostro Paese in un ruolo di primo piano. Il biometano sembra aver trovato un nuovo slancio grazie ai nuovi incentivi, a un quadro regolatorio e legale abbastanza chiaro in Italia e si sta sviluppando molto. Abbiamo visto in questa giornata di lavori una grandissima attenzione, una sala di conferenze pienissima, ed è un tema non solo caldo da un punto di vista dell'attenzione della platea e delle persone che sono venute a partecipare, ma è un tema veramente importante per il Paese, in quanto il biogas è qualcosa che nasce in Italia al 100% dall'agricoltura italiana, dagli scarti industriali italiani, dagli scarti pure delle nostre cucine, quindi dai rifiuti, per arrivare con tecnologie che per lo più sono tecnologie italiane, fino a produrre del metano che può essere utilizzato anche per gli usi nostri normali, quindi rientrarci, ritornarci a casa in cucina. Produrre il biometano è senz'altro un'attività conveniente, sia che si voglia utilizzare per fare cogenerazione, sia che si voglia destinare questo biometano al settore dei trasporti. Ripeto perché è una cosa molto importante, in Italia ci abbiamo delle leadership molto forti nella produzione di biometano, ma anche nel settore degli utilizzi, che possono essere gli impianti per la cogenerazione, oppure i mezzi di trasporto a metano, in cui l'Italia ha una leadership motoristica fortissima a livello mondiale, sia delle grandi aziende che producono interi automezzi, sia delle aziende che producono componenti, e questo implica una grandissima occupazione per il nostro Paese. Ad offrire un quadro delle deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sul biometano, è stato Roberto Maulini, della direzione Strutture, Unbundling e Certificazione dell'ente. L'autorità con la pubblicazione delle delibere 46-2015, 208-2015 e 210-2015, ritiene di avere assolto i compiti che gli erano stati assegnati, anche in funzione del decreto legislativo 28-2011, e quindi di aver creato i presupposti perché si possa procedere da parte degli operatori interessati all'immissione del biometano nelle reti di distribuzione o di trasporto del gas naturale. Tuttavia, resta inteso che non si esclude che a tendere potranno essere fatte anche degli interventi di implementazione, aggiustamento o sviluppo delle attuali delibere, soprattutto della delibera 47-2015, in funzione di quelli che saranno poi, soprattutto i lavori che verranno svolti dal Comitato di Normazione Europea nell'ambito del mandato M475 per quanto concerne le specifiche di qualità che deve avere il biometano per l'immissione nelle reti del gas naturale o per l'uso in autotrazione. La questione degli incentivi è stata invece affrontata da Antonio Nicola Negri, del GSE. Come ben si sa, è stato pubblicato già da tempo ed è entrato in vigore il decreto 5 dicembre 2013 relativo al biometano e l'autorità ha poi compiuto tutti i passi necessari per emanare le proprie delibere attuative del decreto. Il GSE, dal canto suo, ha pubblicato le proprie procedure operative per l'incentivazione degli impianti a biometano e dunque a questo punto riteniamo che il processo di incentivazione possa partire. Un piccolo dettaglio, in GSE stiamo ultimando il portale attraverso il quale gli operatori possono in via totalmente telematica presentare la loro richiesta di incentivazione e interloquire con gli uffici del GSE. Quindi questo sarà pronto a brevissimo, nel giro di qualche mese. La richiesta di incentivo vede come primo passo la presentazione al GSE di una domanda di qualifica che deve essere corredata da tutta la documentazione che è ben dettagliata nelle procedure operative che noi abbiamo pubblicato sul sito. Il GSE ha 120 giorni di tempo al netto delle interlocuzioni col soggetto richiedente per esaminare e validare la domanda di qualifica dopodiché corredata alla valutazione vi è anche la definizione dell'incentivo spettante e poi man mano il meccanismo si avvia in ragione della quantità di biometano immesso in rete in un caso della quantità di energia elettrica prodotta nel caso gli impianti incentivati alimentino impianti di cogenerazione ad alto rendimento oppure la corresponsione di certificati di emissione al consumo per il biometano immesso nella rete dei trasporti. Possono accedere all'incentivo come da decreto gli impianti nuovi e gli impianti riconvertiti. Questi ultimi hanno diritto ad un incentivo proporzionalmente ridotto per tener conto del fatto che alcuni costi di investimento sono già stati sostenuti. Possono accedere all'incentivo gli impianti in progetto gli impianti di cui c'è un progetto ma sono anche iniziati i lavori di realizzazione oppure gli impianti in esercizio. Per ciascuno di questi tre casi c'è una tempistica un pochino differente da parte non del GSE che ha sempre i suoi 120 giorni per fare il lavoro ma da parte dell'operatore per presentare la domanda poi per avviare i lavori poi per entrare in esercizio. Tutto questo comunque è ben rappresentato nelle procedure applicative scaricabili dal nostro sito. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!